Oggi scopriremo un progetto dell'estetica pop surreale molto particolare che ha come obiettivo quello di mettere un dito in un occhio al cinema italiano. Conosceremo una mente contorta in grado di far sorridere anche le persone più depresse. Passeremo in rassegna poi le web celebrity internazionali nella nostra consueta classifica. Nuovi predicatori sono spuntati un po' ovunque ed il mio greggio ha cominciato a disperdersi. Ora sono in aspettativa da un anno. Il quarto sesso è un termine coniato un po' di tempo fa da Francesco Bonani per una mostra che parlasse dei territori estremi dell'adolescenza. Il termine nel tempo è cambiato, è stato anche un po' abusato ed oggi è diventato una serie tv disponibile soltanto sul web che ha come protagonista un Gesù tutto particolare. C'era una volta un pomeriggio di settembre in cui tutte le televisioni del mondo iniziarono a trasmettere la stessa cosa. Una pioggia di vetri, polvere, fotocopie in cielo, fazzoletti sulle bocche, strilli, fughe, sirene, pianti e salti nel vuoto. Si era aperta la stagione dell'inverosimile, celebrata nella fortezza moschiosa di internet ed eravamo tutti invitati. Ciao, sono Marco Costa, sono scrittore e regista. Ho cominciato attraverso la scrittura sin da giovanissimo. Poi subito dopo l'università ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere un gruppo di amici, insomma dei giovani cineasti che iniziavano questo percorso e mi sono reso conto che in questo gruppo mancavano sceneggiatori. Piano piano poi attraverso le cose che ho scritto sono riuscito a ottenere la chance di fare la regia dei miei primi lavori e poi per fortuna le cose hanno cominciato a ingranarsi. Mi sono scontrato subito con la macchina del cinema ed ho notato subito come è vero che il film è arte, però il cinema di per sé è un'industria. Il discorso surreale poi, soprattutto in Italia, non incontra molto il favore sia dei produttori che dei critici perché c'è, come dire, una sorta di pregiudizio. Roger! Mi fa rinforzare! Roger! Buon Natale, io sono Jesus. L'idea del quarto sesso mi è nata un po' sotto forma di visione estemporanea di un Natale di un paio d'anni fa in cui ho immaginato la figura di Gesù, un Jesus che nella mia testa era in una versione più pop surreale, chiaramente più stilizzata rispetto alla figura tipica, che giocava nel caso a un gioco da tavola con le ragazze, nel caso era Hotel, che era un gioco a cui giocavo da ragazzino. Avevo questa ossessione comunque di raccontare il perché ci fosse questo Gesù che giocava con le ragazze, un Gesù particolarmente depresso, non convinto del tutto delle proprie potenzialità, un po' come anche spesso e volentieri capita ai giovani d'oggi. E così mi sono incontrato con Marcello Mercalli, che è uno sceneggiatore, regista, mio amico con cui ho lavorato e collaborato anche in passato, e abbiamo iniziato a svilupparla pensando principalmente a questa figura di Gesù per poter arrivare ad avvicinare i giovani d'oggi al tema della spiritualità, però facendolo con un linguaggio che fosse molto più nuovo, più postmoderno. Non tirarla per le lunghe, ti spassa quel pane. Allora, Jesus, parlaci un po' di te, che fai per vivere? Beh, attualmente sono disoccupato. Prima facevo il predicatore, divulgavo la parola di mio padre. Bei tempi. E poi qualcosa degli esseri umani è cambiato. Il dubbio si è insinuato nei loro cuori. E forse anche nel mio. Nuovi predicatori sono spuntati un po' ovunque ed il mio greggio ha cominciato a disperdersi. Ora sono in aspettativa da un anno. Mi sto cercando. Pensavo di scrivere un romanzo. Ci siamo appoggiati su quelle che sono un po' le logiche comunicative della Playstation, cioè far vedere Gesù che combatte Kung Fu. Mi sembrava un modo per poter rappresentare questa figura, che solitamente è ammantata dal timore della Bibbia e via dicendo, più come un supereroe moderno. Ho imparato che non importa quanto gli uomini possano essere deboli o infingardi, finché su questa terra ci saranno creature come te, non ci sarà mai negato il dono della speranza. Compra bella rossa? Tra le sorprese che abbiamo avuto nel mettere in piedi questo progetto è stata l'adesione di Morgan, che oltre ad aver fatto una splendida colonna sonora ha partecipato nelle anticipazioni finali nel ruolo di Karl Marx, che era il ruolo del padrone di casa, che in possibile sviluppo della serie sarebbe diventato uno dei main character dell'operazione. Gisus è alle prese con una doppia sfida, prendere la patente vero o vero o falso. No, falso, falso, vero. Gocciato! E affrontare Karl Marx, il padre dell'ateismo moderno. Se riesce a trasformare il carbone in diamante con poco lavoro, il valore del diamante può scendere al di sotto di quello dei mattoni. Ci sono grandissime possibilità, soprattutto per l'epoca in cui viviamo, che con l'impatto del digitale le nuove tecnologie e internet in testa apre la possibilità in chiave molto più democratica. Non c'è più bisogno di entrare nella lobby del cinema per poter fare i film. Basta avere delle buone storie da raccontarle onestamente e con uno stile personale. Per cui credo che per l'Italia ci sia un margine di miglioramento enorme, soprattutto guardando e ormai ragionando in chiave europea ed internazionale. Se la TV mi ha insegnato qualcosa, è che i miracoli a Natale avvengono anche se non ci credi. È successo a James Stewart, è successo a Homer Simpson e sta sicuro che succederà anche a me. Grazie a tutti i nostri amici.